Sarà Lorenzo De Grazia, l'ago della bilancia, nello scacchiere che Ottavio Palladini proporrà domenica pomeriggio allo stadio Mancini di Fano. Perché la posizione dell'ex maceratesi sarà determinante per dare un volto più o meno offensivo al diavolo. In settimana il tecnico bianco-rosso, che dovrà fare a meno dello squalificato San Domenico, rinunciando dunque al tridente, ha provato De Grazia come vertice alto del triangolo mediano, che prevede anche Ilari, e un amadio segnalato in ottima forma dopo un campionato non al massimo delle sue possibilità. Qualche metro più avanti per un 3-4-1-2, oppure in fase di non possesso più indietro per un 3-5-2, in grado di non far soffrire troppo la squadra quando inevitabilmente ci sarà da stringere i denti. Queste sono le indicazioni degli ultimi allenamenti, con Graziano che per due giorni non si è allenato con il resto del gruppo e potrebbe partire per Fano ma accomodandosi in panchina, con Palladini che in ogni caso gli avrebbe preferito Amadio, più geometrico e in grado di dare più soluzioni alla prima linea. Sugli esterni, con Rossi che ormai ha lasciato Teramo e con Diallo e Pietrantonio che non rientrano nei piani dello staff tecnico, ci saranno Ventolo e Sales. Dietro torna Speranza e con Caidi e Milillo formerà la classica linea 3 davanti al calore. Davanti Bacio Terracino e Gondò, al netto di sorprese, che in questo momento però non sembrano così probabili. Il Teramo vuole affidarsi ad un 11 che inizi la gara e che abbia già un assetto consolidato. Nulla vuole essere lasciato al caso, anche perché sbagliare al Mancini significherebbe dire addio alle possibilità di salvarsi direttamente. Fratangelo andrà in panchina, così come Panico, giocatore, l'ex Cesena, ma è entrato nei meccanismi biancorossi, un acquisto, l'ennesimo sbagliato di una stagione da archiviare in fretta, possibilmente salvaguardando la categoria. Nel frattempo però la tifoseria sarà impegnata in un'altra partita, quella che vedrà tanti sostenitori partire da Teramo per raggiungere Fano e dare un contributo alla propria squadra. Domani i tifosi saranno presenti alla rifinitura, ieri erano quasi 200 i tagliandi staccati per il settore ospiti, ma tra oggi e domani il picco definitivo con la vendita che si chiuderà domani sera alle 19. Il Diavolo cercherà il colpaccio contro un Fano senza Germinale davanti, ma con Rolfini in gol a Trieste e con Fioretti, che rimane il solito spauracchio, soprattutto guardando l'ultimo precedente, quello dello scorso anno.